Buonasera, molto velocemente, sinteticamente perché non voglio togliere spazio ai tuoi ospiti anche perché dopo c'è la partita. Volevo un po' comunicare i prossimi eventi, stiamo prendendo accordi con l'amministrazione del comune di Suma Vesuviana per portare lì itinerante il salotto culturale di cui sono poi nel pubblico c'è un'altra esponente, Rosaria Chiaiese, neopresidente del circolo anziani in San Anastasia, vado velocemente perché un attimino, poi tra l'altro sta per partire nel salotto di Puntini Puntini Veracerello di cui farò delle interviste man mano delle persone, sia interessi culturali, arte, insomma cultura spettacolo e in una di queste interviste, lei non lo so ancora, c'è anche Carmen Percontro che ci parlerà un po' della sua arte. E poi niente, sto organizzando col comune di San Anastasia un grosso evento però che andrà un po' diciamo come progettazione un po' avanti nel tempo perché veramente è una cosa molto grossa e si tratta per quanto riguarda il fenomeno sociale di Facebook. quindi ci sarà veramente insomma una grossa cosa con questa cosa qui. E quindi niente, io ringrazio Carmen che mi dai sempre spazio e buon proseguimento. Buonasera. Grazie per la prossima.